Buongiorno a tutti, Stefano Panetta online per raccontarvi insieme ad Andrea Doldi della Tecmar quello che sarà l'intervento al convegno di domani di Andrea. Buongiorno a tutti, domani alle ore 14.30 presso la sala 2 ci occuperemo di quella che è l'illuminazione sul lavoro, quindi infatti il titolo è proprio Illumina il tuo lavoro. Partiremo da quelle che sono le normative riguardanti l'illuminazione all'interno dei vari spazi di lavoro, quindi partiamo proprio dagli uffici per poi spiegare tutte le varie e le diverse normative riguardanti l'illuminazione nel settore industriale, sia all'interno dei capannoni industriali che all'esterno, quindi nella parte dei parcheggi, sempre delle attività industriali. Inoltre daremo poi anche una spiegazione su quelle che sono le ultimissime normative dell'illuminazione degli spazi urbani, perciò spiegheremo quelle che sono le ultimissime novità nel campo delle armature stradali, dove abbiamo diversi apparecchi per qualsiasi tipo di altezza di installazione, per qualsiasi tipo di richiesta di dimmerazione o di controllo della luce. Proprio perché negli ambienti di lavoro, maggiormente che in altri tipi di ambienti, ci sono delle normative molto restrittive, per cui i nostri prodotti made in Italy rispondono a queste nuove normative e permettono di sostituire ad oggi qualsiasi apparecchio non a LED con un nuovissimo apparecchio LED che genera un risparmio energetico e una durata nel tempo garantita, che negli ambienti di lavoro è una cosa molto molto importante. Perciò vi invito tutti a partecipare al nostro incontro. Ottimo invito, ricordiamo solo a che ora e in quale sala si terrà? Alle 14.30 in sala 2. Perfetto, vi aspettiamo domani, grazie.